mancano pochi mesi agli europei e siamo qui sul campo per testare quello che sarà il protagonista di euro 2012 ovvero questo pallone adidas dal nome evocativo tango che ricorda i mondiali del 78 vinti dall'argentina colori e anche l'iprea del pallone ricordano parecchio quello di ben 34 anni fa ovviamente la leggerezza la calciabilità ma anche la traiettoria del pallone sono migliorate rispetto al passato quale migliore occasione per testare il tango 12 che ritrovarsi a milanello insieme come vedete a un ex campione del milano maurizio gans ea tanti giovani che nei campi sportivi del centro del milan stanno provando il pallone degli europei 2012 insieme a gans anche i giocatori del milan amelia e nocerino per provare il tango 12 nella speranza di ritrovarsi anche loro a giocare gli europei in ucraina e polonia un saluto a tutti gli amici di sportlife.it un saluto a tutti Grazie a tutti